Raccontami qual è il tuo superpotere. Il mio superpotere è fuori, è nella mia famiglia il mio superpotere. È quello che mi dà la sicurezza di avere sempre un luogo in cui tornare quando le cose che vadano bene e vadano male. C'è sempre un posto in cui io posso riposare, in cui posso sentirmi amato, un posto in cui posso essere me stesso, qualunque cosa succeda. Questa sicurezza mi permette di allungare sempre di più un po' la mia mano a raggiungere e a toccare obiettivi che perseguo, che inseguo da una vita. Il punto è che se posso prendermi un merito nella vita è quello di aver costruito una cosa, un ecosistema di crescita. Uno, due, tre. Uno, due, tre. On record, off record, I still count wins when they doubt it. On record, off record, I let them take advantage, I was wildin'. On record, off record, deals, tell them to talk to Colin for the quote. On record, off record, I still want the act, not the ghost. On record, off record, off record, off record, off record, off record, off record, all the way for the record, ain't tryna lend no time to waste. Oh, grazie. Ancora. Datemi una leva e alzerò il mondo. Non diceva alzerò il mondo. Datemi una leva. La mia leva è la mia famiglia. La domanda con la quale chiudo è qual è la vostra leva. Grazie. Grazie, grazie. Che bello però, è veramente bello. Grazie. Grazie.